Le piscine e le naadi hanno un nuovo gestore, soprattutto sono aperte, ma il tuffo del governatore Marsilio lascia ancora senza risposta i quesiti del gruppo PD in regione del consigliere Blasioli. Ci sono dei tuffi ancora da fare per chiarire definitivamente questa vicenda. Abbiamo avuto gli atti dell'offerta di club acquatico per la gestione ventennale, ci sono degli aspetti che oggi abbiamo messo in evidenza e che vorremmo che invece il governatore Marsilio e il presidente Sospirici chiarissero una volta per tutte. La prima è l'aspetto che riguarda la garanzia provvisoria, la garanzia fidevissoria, che abbiamo scoperto essere stata prestata da una società di mutuo soccorso, cioè di una società che si dovrebbe occupare di indigenti, di persone indifese, eccetera, che in realtà presta una garanzia di 780 mila euro nei confronti della regione Abruzzo, cioè di un ente pubblico. Dobbiamo sottolineare un secondo aspetto, cioè che il club acquatico ha fatto una richiesta di partecipazione proponendo un'offerta tecnica che prevede investimenti nei vent'anni di 3 milioni e mezzo a fronte di una società che ha un capitale sociale di 10 mila euro. Però oggi dobbiamo anche dire correttamente che ci riteniamo molto più tranquilli, visto e considerato che il piano economico-finanziario è stato presentato da uno studio di commercialisti importante che fa capo a Vincenzo Serraiocco, ma oggi siamo molto più tranquilli, proprio perché Vincenzo Serraiocco ha avuto una gestione delle naiedi e quindi chi più di lui poteva avere un'espertise tale da presentare la sua asseverazione al piano economico-finanziario. Questi ed altri aspetti, a partire dal riassorbimento di tutto il personale, non vogliono gettare ombre su di una riapertura tanto attesa. Ma la presenza del presidente Marsilio e il suo epico tuffo all'interno delle naiedi ci spingono a credere che sicuramente il presidente avrà verificato la presenza di tutti questi aspetti.